Entrino pure i veterani, sette rilandese, golden retriever, shipper key, barbone toy, quattro soggetti. Vediamo sfilare il set rilandese, sono soggetti di oltre otto anni di età, questo è il golden retriever, vediamo sfilare adesso lo shipper key. Si preparino intanto le coppie e a seguire i gruppi di allevamento. Grazie. Grazie. Tutti i cani che hanno ampiamente completato la loro carriera e che decidono di calcare ancora il ring, sono tutti in ottime condizioni di mantello, muovono tutti molto bene. Vediamo salire al terzo posto lo shipper key, secondo posto per il golden retriever e vince il barbone. Grazie.